allora amiche d'amici buonasera che ore sono ve lo dico 18 e 17 condivido con voi non il caffettino ma l'infusetto la parte bollente l'ho già bevuta adesso però me lo tengo da questa parte via o vi saluto con la tazza con il mio cuoricino ve la faccio rivedere la mia tazzina con un cuoricino che mi ha regalato la camilla eccola qua la mia tazzetta siamo in orario di cena in verità demo oggi tutta sballata aspettiamo aspettiamo tanto sto cuocendo cose scusate allora vi volevo aggiornare riguardo a questo questa campionatura triangolare del lama di borgo dei pazzi che mi è stato regalato sabato da nancy del canale polvere di colore quello quale abbiamo condiviso il nostro diciamo secondo nick caffè vabbè la gita a roma la puntata merceria ma si è stato un nick pranzo diciamo che caffè lì c'è stato il caffè c'è stato il pranzo dove sono state le cose buone le chiacchiere belle per strada e insieme alle amiche al tavolo quella giornata venne da lontano l'amichi del canale mano ai ferri grazie alla mia amica e abbiamo fatto questa bella esperienza che vorremmo anche ripetere allora allora venite qua e quindi abbiamo sabato abbiamo visitato assieme il centro botanico mutan abbiamo avuto un momento di chiacchiere ha partecipato anche camilla comertelo nel secolo sua famiglia che bello siamo state proprio bene ma ne riparlerò di quell'occasione perché sono in corsa perché oggi guardate sto tribolando con i social può funzionano un po non funziona prima sono andata a consultare un sito adesso è in malutenzione attiva su un accidente vabbè non si può consultare che bello ci sono i tetti illuminati dal sole e il cielo è di un grigio spennellate orizzontali è bello grigio cupo con punti di luce quella non azzurra è bello quando è così mi piace ha già piovuto devo anche uscire con la minuscola allora allora nancy mi ha fatto questo dono che ho voluto onorare veloce veloce ma perché poi lui cantava mi chiamava diceva no lascia perdere aspetta intanto sono solo 50 grammi ma cosa vuoi che sia come cosa vuoi che sia amore sei bellissimo ti devo dedicare delle attenzioni dai provami guardami cosa sono bello e ha ragione purtroppo le luci qua non fungono cioè il tablet altera tutti i colori guardate c'è poco da regolare io non ho pazienza in queste cose il ring sono saranno almeno tre ore che ci litigo con il ring adesso finalmente funziona abbiamo degli sbalzi di tensione qua ogni tanto manutengono qua in giro tolgono la luce ho rivisto altri volantini mi ha preso un corpo dico no ci ritoccherà pure a noi cambiano qui cambiano non funziona ma in tubo non funzionano le prese non funzionano le spine si spanano le spine ste multiple ste coche uffa adesso me ne sono inventata una ho messo un rocchetto di filo tra due spine che vanno tutte e due in una prolunga di quelle sapete che si svolgono qui c'hanno tutti i sistemi di sicurezza sì ma poi funzionano poco e niente l'avevo pagato un botto di soldi vabbè comunque venite qua parliamo di lama che ha reso benissimo lama questo filato incredibile mi piace e sapete che ho una passione per i filati naturali di origine animale di origine vegetale quindi la passione va per la lana poi arriva proprio al lino e la setta anche un po' il cotone ma poi i camelidi i camelidi dal cammello in poi guardate cosa ho maneggiato dei camelidi cammello baby quante volte tante c'erano ancora delle belle rocche ci ho fatto un vestito ci ho fatto scialli ci ho fatto cose belle a telaio e a maglia o gli alpaca baby sì poi anche tra l'altro da filande diverse un baby vero un baby di primatosa meraviglioso ce l'ho ancora e ne ho ottenuto qualche gomito letto da far assaggiare in purezza perché è importantissimo conoscere le fibre naturali in purezza assolutamente sì in gomitole possibilmente anche così tosate anche riconoscere un po' gli odori ma che non fa male e quindi di alpaca ne ho usata tanta di vari vari brand di quelle proprio naturali proprio 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 belle delle mie zone tra l'altro della valdivara poi ho usato il guanaco ci ho fatto una cosa molto bella in guanaco allora guanaco e alpaca che mi sono provenuti dalla patagonia della patagonia del nord lama l'avevo già adoperato il lama si misto a seta e misto a merino se non mi sbaglio e quindi questo lama l'etichetta non ci porta altre indicazioni quindi dovrebbe essere un lama puro è interessante la mano perché si avverte una setosità non è morbido non è un filato elastico quindi voi lo comprimete lui rimane lì si muove quasi accarezzandolo è setoso è un lama non baby ma è affascinante in questa sua torsione twist qui sono due capi torti insieme ecco lì qua ve lo faccio vedere una codina poi lo rivedremo meglio vedete guardate un po' qua come l'è che bella messa in piega che è trattenuto lui guardate lui è perfetto per il pizzolesto e adesso vi farò anche il tutorial non in questo vocale è bello nella sua tinta naturale del vello non è stato candeggiato non è stato tinto è affascinante proprio per questa mano quasi grassa sembra quasi di avvertirla l'annolina ma i camelidi non rilasciano non hanno questa secrezione grassa eppure è strano molto strano adesso poi faremo venerdì se avremo il tempo comunque ne parleremo con grazia sicuramente speriamo si aggreghi anche aleandra che è un po' che non vediamo scusate devo sorseggiare un pochetto e compareremo questo il risultato che ho ottenuto con il lama di volgo dei pazzi e il risultato che otterrò con un alpaca con un filato di alpaca adulto cambia cambia tanto la solfa eccolo qua questo filato qua è un filato di alpaca adulto un filato naturale ho usato anche alpaca della fattoria didattica tuscia alpaca che abbiamo veramente qua vicino abbastanza adesso non so 10 15 20 chilometri e mi avevano non a me insomma avevo scelto uno stoppino sottilissimo meraviglioso con il quale ho fatto una cosa bellissima poi ve lo farò vedere quando mi ritorni la tra le mani il lavoro e quindi parleremo di questo di queste mani quindi venerdì porterò con me in biblioteca perché venerdì avremo di nuovo un'altra bella presentazione poi stamattina ho chiacchierato velocemente brevemente con il nostro commissario di biblioteca che già la settimana scorsa aveva accennato a novità e avremo altri ospiti in biblioteca sapete che ogni tanto la biblioteca organizza degli eventi interessanti molto interessanti presentazioni di libri ma più che di libri di argomenti presentazioni anche degli autori in questo caso in questa rassegna ultima Esebeo, Esebeo, veramente Esebeo e ha dato l'accenno di qualcosa di assai lussuoso ma non è l'unico stamattina guarda che non sarà solo quella cosa che ho accennato ma ci sarà un'altra cosa ancora e non vedo l'ora ecco e quindi venerdì con me visto che avremo molto da aspettare prima che inizi l'evento io arrivo presto con l'autobus grazie a Esce presto o tardi se vuoi dipende dal punto di vista dal lavoro e quindi ci dedicheremo durante l'attesa a questo nostro scambio toccando il risultato che ho ottenuto adesso poi ve ne parlo anche meglio e porterò come altri materiali da lavorare ancora quindi in matassa e porterò in questo campione che realizzerò su questo filato di alpaca adulta grazie a campionato con un filato in alpaca suri stranissima che ha acquistato tempo fa che ha dato problemi sghemba i rettangoli creano dei rombi praticamente sghembano proprio è un problema di torsione dei capi abbinati tra loro e quindi è stato cambiato il prodotto questo gli è rimasto stiamo facendo delle campionature per verificare se ci sono dei punti che ci possono venire incontro quando abbiamo dei filati che ci possono creare questo problema io l'ho avuto con la seta burette ad esempio con una seta burette non pensata per la guglieria ma realizzata per il comparto tessitura sono rocche fino agli anni 60 e se appunto in tessitura non mi ha dato nessun problema perché le questioni non possono dare problemi in tessitura ma in maglia ed uncinetto i nostri filati fanno dei movimenti quindi devono essere predisposti per la guglieria ai filati e quindi vedremo vedremo dopo il lavaggio come avranno reso grazie ha fatto anche un ulteriore esperimento con il pizzolesto abbiamo proprio pensato al pizzolesto perché insomma vedrete vedrete i risultati allora ho lavorato questo filato che viene consigliato per calibri dal 3,5 4,5 secondo di quello che volete realizzare io l'ho lavorato con i ferri dell'otto sapete che il pizzolesto chiede dei calibri alti per poter rendere e quindi mi sono buttata subito a capo fitto nel secchiello proprio testa in giù nel secchiello che mi contiene i ferri dritti perché i campioni li faccio solo quei ferri dritti e mi ha soddisfatto tanto e vi dico che cosa ho ottenuto a parte che c'è un altro particolare che adesso non voglio svelare perché sarà l'argomento della nostra chiacchiera di venerdì così non spoilerò certi effetti che ho appena accennato a grazia ma se no ho detto a gol piacere della scoperta quindi non lo prendo in mano adesso non ve lo faccio vedere ho realizzato uno di quei triangoli che io amo tanto questi triangoli che nascono che hanno subito un bel lato il lato lungo che diventa molto più lungo dei due lati uguali e corti e che cresce velocemente più velocemente in larghezza che in profondità sono quelli che io indosso volentieri uso bandana uso foulard uso come lo uso lo uso me li sento bene insomma ecco allora come mi ha reso con il pizzo lesto e con i fare dell'otto mi ha reso benissimo ho ottenuto un triangolo che si muove ecco è un pizzo un triangolo che ha il lato lungo di 87 centimetri circa i due corti di 28 centimetri e scusatemi i due corti di 50 52 centimetri circa e l'altezza di 28 centimetri ha reso bene 50 grammi per 125 metri quindi una bella maglia in pizzo lesto con il davanti e il dietro in pizzo lesto e delle belle manichine lunghe a maglia rasata diciamo che potrebbe chiederci io penso alla mia taglia che sono una M e mezzo diciamo nella parte alta del corpo è una M più o meno sì una M e mezzo e ci potrebbero bastare per il davanti e il dietro diciamo due cinque matassine secondo me sono sufficienti per quello che ho mente quindi un capo un po' boxy ma non troppo lungo diciamo a metà bacino mi dovrebbero bastare vediamo e altre diciamo e altre tre vediamo un po' altre tre quattro altre quattro vai facciamo quattro matassine forse meno dai forse tre devo fare bene i calcoli di maglia rasata di maniche non troppo larghe a tubo né troppo larghe né troppo strette eccoci potrebbero bastare quindi abbiamo detto tre sette matassine sì sei sette matassine secondo me mi potrebbero bastare per farmi una maglia va bene con questo bel davanti e dietro pizzoluto adesso poi parleremo meglio all'aperto con una luce diversa una luce naturale ecco guarderemo prima che io lo vada a sfare perché lo sfarò questo triangolo perché mi piace come rende il punto non mi piace la parte centrale mi piacciono le diagonali devo fare un esperimento insomma devo trovare un altro modo per farlo camminare per farlo crescere così come piace a me va bene sono contenta intanto quello che mi interessava era assaggiare il filato è assolutamente sì allora questi filati che per molti sono rustici considerate che comunque sono filati di origine animale non è seta ecco diciamoci lana non lo chiamo lana perché sapete che lana si chiama solo il velo delle pecore comunque questi filati caldi diciamocelo mica l'indossiamo sulla pelle nuda quindi con una bella t-shirt sotto in cotone in seta in quello che vi pare dalle maniche lunghe voi starete belli caldini asciuttini senza portare un peso addosso ecco lui è proprio stabile questo filato definisce benissimo tutte le sovrapposizioni dei punti è un pizzo veramente facile si memorizza subito 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 ma è vero rende un po' con tutti i filati riesce a chiacchierare molto ma con questi filati qua con queste consistenze tra il rustico e il setoso lui è perfetto la ma è veramente perfetto e quindi come lo si può impiegare come vi ho già accennato per delle maglie per delle belle copertine per degli scialli da divano per dei plaid per delle copertine da poltrona da lettura ma sì per dei pizzi guardate beh poi uno deve anche scegliere il pizzo ma questi punti lanciati un po' così lui chiacchiera in questa sua torsione chiacchiera bene ne sono innamorata assolutamente sì e sono contenta bene allora vi auguro una buona serata provo il tutorial nuovo del pizzolesso cosa cambia cambia che è più corto ecco che non vado a fare pubblicità a chi non voglio va bene allora ci vediamo forse se no ci sentiremo domani buona serata devo portare fuori la minuscola prima che ricomincia a sgrondare poi devo andare a sterilizzare dei barattoli sulla stufa a legna perché metto via la ciccia per il gatto ieri ho comprato e ho cucinato un sacco di fegatelli di pollo per l'oreste ma anche per il mirtillo e siccome Camilla ha difficoltà a stipare nel freezer suo così glielo sterilizzo una volta può tenerli dove gli pare mamma va bene e poi mi scalda la mia minestra e ceno vi interessava no pazienza ciao buona serata grazie per i saluti devo rispondere a un sacco di messaggi su instagram ma mi è ostile adesso funziona adesso no ora vado ora non vado ora ho la connessione ci ho ci ho detto ora ho la connessione e ora non ce l'ho mio padre si arrabbia sapete quando cerco il segnale chiamo mio padre che lui non vuole usare whatsapp ce l'ha su un telefono poi l'altro no vabbè lo chiamo con la sim sto ferma non respiro quasi e si arrabbia perché ho la connessione che è stata sono davanti al mod sono qua sono qui niente non c'è verso noi qua in mezzo a queste case di pietra con i murirti il segnale è matto e mio padre si arrabbia non ti muove ma insomma ma non potevi cercare una stanza con più segnali oh oh che me la scelgo io lo sto in giro con sto telefono come una rabdomante è così adesso vedete ho il come si chiama qua il ring che funziona non farei altro che registrare già che funziona col telefono perché la luce del tablet mi fa brutto tutto